Maria tra musica e parola è stato il tema proposto dai frati francescani nel convento santuario Sant'Antonio in Polla e messo in scena ieri sera dalla compagnia teatrale La Cantina delle Arti di Sala Consilina. La performance artistica ha unito le parole alla musica fino a divenire l'unica cosa, che in Enzo d'Arco ha trovato la sua naturale regia. I brani della letteratura italiana, tratti da Dante, Petrarca, Jacopone da Todi, Manzoni e Pascoli, si sono miscelati a brani musicali di Beethoven, Mozart e Corelli. I primi declamati con ispirazione e abilità da Angiolina immediato e da Enzo d'Arco, mentre i secondi magistralmente seguiti dal professore Pietro Petrone al violino e Romeo Lombardi al pianoforte.